Si sporcano le mani, si rimboccano le maniche, imbracciano scopo e paletti, si armano soprattutto di buona volontà. L'annissima lezione di senso civico arriva dai volontari delle frazioni che nel pomeriggio sono stati impegnati nella cura e manutenzione degli spazi verdi situati nella frazione Badia di Sulmona. I volontari in un video girato sui social hanno inteso sensibilizzare amici e simpatizzanti ad avere più rispetto e senso civico per l'ambiente e le bellezze che questi luoghi custodiscono. I volontari raccomandano i possessori di cani, se fanno i loro escrementi lungo la strada, maggiormente all'interno di questo aiuole, di provvedere a raccoglierle oppure non ce li fanno salire perché è veramente desolante stare a contatto con la M eccetera eccetera. All'appello degli utenti, soprattutto invito tutti gli utenti, i paesani, i cittadini a non sporcare, a non buttare le cinque di sigaretta, a non buttare i pacchetti di sigaretta, le lattine e tutti quelli che sono i rifiuti. Perché ogni volta noi facciamo delle raccolte veramente chili, 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 quintali di rifiuti. Grazie. 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 Grazie.